benvenuti a questa puntata di Mago Mundi dedicata allo spazio e quindi vedete Marcello Spagnuolo ciao Marcello ormai è viso conosciuto al canale però ricordo per chi non lo sapesse che appunto è consigliere scientifico di Limes e autore di geopolitica dell'esplorazione spaziale e nonché principale collaboratore del volume di Limes lo spazio serve a farci la guerra che appunto vedete qui che è uscito qualche mese fa e speriamo che poi ci sia anche un nuovo volume sullo spazio prossimamente però qui affrontiamo Marcello una storia insomma che appassiona te in quanto appunto storico dell'esplorazione spaziale a me ha appassionato perché mi sono occupato appunto delle v2 di Von Braun proprio in questo volume di Limes che ho citato con un articolo e quindi oggi parliamo di quello che è un po' il padre no dell'esplorazione spaziale e del suo passato non proprio limpido direi visto che lui era nazista e faceva parte dell'SS parliamo appunto di Von Braun e io comincerei subito a darti la parola mostrando la prima la prima immagine in realtà è una non foto cioè nel senso il soggetto principale non si vede questa è l'unica foto di Von Von Braun che eh indivisa da nazista che almeno che si trova ora eh lo vedete qui indicato dalla freccia e seminascosto e da alte cariche dell'appunto dell'SS perché questo noi sappiamo lui eh era eh membro delle delle SS naziste ma la sua storia è molto complicata un po' ambigua no? Ci vuoi ci vuoi spiegare e raccontare un po' questa sua figura? Sì sì beh la figura di Von Von Braun è una figura veramente particolare della dell'avventura spaziale del secolo scorso lui eh nasce in una famiglia eh prussiana aristocratica e benestante il papà era un ministro del governo e e e lui quindi cresce in un ambiente culturalmente molto edotto e molto aristocratico e prima dell'inizio della della seconda guerra mondiale negli anni negli anni trenta lui è tra gli animatori insieme pensiamo a Herman Hobert e altri importanti eh esponenti della missilistica tedesca eh costituisce un'associazione amatoriale per la costruzione dei dei primi razzi e quindi è questa associazione amatoriale che realizza dei primi dei primi razzi con un controllo con degli elettoni con dell'alcol etilico come propellente nel corso degli anni attira l'attenzione della Wehrmacht eh alla ricerca di potenziali sistemi d'arma innovativi. Il passaggio da questa associazione amatoriale a quello che è poi un inquadramento più strutturato nella Wehrmacht e nell'SS francamente sconosciuto è molto poco noto però eh come hai detto tu nel mostrare questa foto appaiono delle testimonianze in cui poi lui eh diviene di fatto integrato all'interno della struttura militare delle delle forze armate tedesche. Eh sì eh qui allora io semplifico però insomma sulla sua figura ci sono due versioni sostanzialmente. Allora la versione più favorevole a von Braun è che lui in realtà è sempre stato uno scienziato dedito alla ricerca. Qui siamo appunto come dicevi negli anni trenta nella fase più niristica dove la Germania acquisisce un vantaggio perché dal trattato di Versailles era impedito di sviluppare l'artiglia tradizionale e quindi si lancia in questo nuovo mondo anche dal punto di vista militare. Quindi la versione diciamo bonista è che lui è uno scienziato dedito alla ricerca e che appunto eh si ritrova in questo programma militare perché i nazisti hanno un obiettivo militare ma lui rimane sempre un po' ai margini un po' ai margini dell'aspetto diciamo politico del nazismo un po' perché gli è consentito perché appunto era nobile aristocratico eh figlio di un ex ministro quindi aveva anche un peso personale insomma che poteva un po' forse anche permettersi. Invece la versione diciamo negativa nei confronti di von Braun è che lui era insomma pienamente allineato appunto il padre aveva fatto parte di un governo eccetera e quindi l'ideologia anche nazista e dopo invece la guerra dopo il suo passaggio negli Stati Uniti dove poi diventerà uno dei protagonisti appunto della corsa e dell'arrivo no dell'uomo sulla luna eh insomma questo passato sia stato un po' fatto dimenticare e quindi anche qui la foto è emblematica perché secondo alcuni essendo l'unica foto di è la dimostrazione che eh lui in realtà indossasse anche poco la divisa abitualmente invece secondo altri appunto altre foto si sono semplicemente perse caso alla guerra o addirittura sono state poi nascoste e distrutte dai servizi americani quando appunto lui passerà appunto agli Stati Uniti però non voglio anticipare troppi passi però insomma ecco qua ci sono le due versioni che sono abbastanza ehm rappresentate bene da questa foto no che dici Marcello sì 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 assolutamente io credo che come diciamo si comprende bene dalle tue parole poi la realtà stia un po' nel mezzo e cioè il fatto che lui sicuramente animato da uno spirito di eh ecco qui per esempio in questa foto lui è sorridente attorniato da tutti gli ufficiali della Wehrmacht a a a un campo di prova quindi è chiaro che come hai detto tu lui sicuramente era animato dal desiderio di andare a esplorare la luna e Marte però sapeva consapevolmente che i suoi datori di lavoro in quel momento eh erano gli ufficiali della Wehrmacht che avevano bisogno di armamenti eh e ricordiamo che eh ci sono stati dei libri pubblicati molto belli eh che eh anche i i tedeschi i nazisti lavoravano allo sviluppo della bomba atomica con lo scienziato Werner Heisenberg e e quindi eh il fatto che loro sviluppassero da un lato la ricerca atomica e dall'altro la missilistica eh soprattutto in un ambito come quello che vediamo rappresentato in questa foto cioè circondato vestito da civile però circondato da ufficiali risulta difficile non eh pensare che non non fosse consapevole del perché i suoi studi e i suoi lavori venissero finanziati e a quale scopo ovviamente no? Certo. Qui la foto è a Penemunde questo centro di ricerca e sviluppo eh sul Balbattico in Germania ovviamente che sarà lui ricorderà poi anche dopo come qui lavorassero migliaia e migliaia di tecnici avesse finanziamenti quasi limitati anzi lui anche con un po' di che per criticare un po' quello che succederà dopo anche nei confronti degli Stati Uniti addirittura qui eh denuncia avesse più mezzi di quanto poi avrà successo successivamente e qui come ricordavi tu questa base fu bombardata dagli alleati e probabilmente fu anche decisivo questo bombardamento perché ritardò lo sviluppo dell'arma che tu dicevi perché se la Germania fosse riuscita a riusci in tempo ma proprio nei mesi finali della guerra sviluppare dei V2 cioè il 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 razzo eh se fosse riuscito a dotarlo di una bomba nucleare mh sarebbe stata l'arma definitiva appunto come speravano Mussolini eh e avrebbe consentito probabilmente anche alla vittoria nella seconda guerra mondiale ma così non avvenne la l'arma fu sviluppata prima dagli Stati Uniti l'arma atomica usarono però un aereo perché invece gli Stati Uniti non avevano la tecnologia missilistica come anche l'Unione Sovietica e poi vedremo dopo insomma come come in realtà la V2 alla base dei programmi spaziali dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti che raggiungeranno quel livello che era quasi a qui era quasi arrivato von Braun solo negli anni cinquanta no e lo vedremo più avanti e qui ecco questa è un'altra foto lui giovane con la spilla delle delle SS no al Bavoro e qua Marcello ricordo pure tu hai citato giustamente la Wehrmacht cioè l'esercito e ricordo che anche qui durante la guerra eh la Wehrmacht non era proprio pienamente allineata con tutti i suoi membri al diciamo l'ideologia nazista imperante infatti proprio tra le fila dell'esercito poi ci fu ci sarà la congiura no il tentativo di assessare Hitler e così via perché comunque anche all'interno della Germania c'era un dibattito anzi soprattutto tra la tradizione prussiana rappresentata anche da von Braun anche militare e Hitler che nulla aveva a che fare appunto con la Prussia la tradizione prussiana quindi c'era anche una dialettica interna infatti in tutto lo sviluppo poi le SSS quando c'è quando capirono che l'arma che all'inizio manco ci credevano no Hitler non ci credette all'inizio in questa arma quando poi invece il primo test andò bene la guerra era già cominciata si fiondarono le SS cercarono di mettere le mani insomma sul progetto quindi c'era anche una dialettica interna che probabilmente von Braun un po' consentiva von Braun di fare un po' no questa doppia posizione anche se però la cosa strana è che von Braun appunto non faceva parte dell'esercito ma dell'SS quindi questo sì in effetti qui la situazione storica è difficile da ricostruire però quello che tu hai detto è giustissimo all'interno della Wehrmacht c'erano sicuramente degli elementi di dissenso e quindi le SS di Himmler prendevano il sopravvento per tutti gli ambiti che ritenevano più strategici e qui fatto da considerare importante cioè dopo i primi insuccessi le V1 e V2 di von Braun cominciarono a funzionare bene e quindi lui proprio da penemonde cominciò a lanciarle verso l'Inghilterra e verso Londra le V1 erano una specie di diciamo di siluria elica con delle superfici aerodinamiche e che quindi poi smettevano di funzionare perché finiva la benzina e cadevano col loro carico di bombe ma le V2 erano un vero e proprio razzo con degli impennaggi verticali che ne muovevano con delle ruote giroscopiche che ne gestivano l'assetto con una propulsione che consentiva di raggiungere Londra e l'Inghilterra dove caddero a migliaia provocando terrore e danni ecco qui vediamo appunto la V2 che in tedesco significa arma arma di rappresaglia e qui innestiamo una cosa che tu anticipavi cioè il fatto che in realtà e questo non sappiamo perché ci sono poche fonti storiche non sappiamo quanto in realtà poi von Braun o le SS che lo finanziavano fecero presente a Hitler che un modello più evoluto della V2 la cosiddetta V4 lui la chiamava A4 poteva essere lanciato dalle basi della Normandia e sorvolare l'Atlantico cadere negli Stati Uniti nella costa est degli Stati Uniti fortunatamente lo sbanco in Normandia proprio sulle spiagge di Omaha Beach non fece poi concretizzare questo piano però ci sono delle fonti storiche che ricostruiscono questo pensiero e ovviamente non sappiamo quanto in tutto questo von Braun fosse poi concretamente come capo progettista coinvolto e dimenticavo c'è poi un esempio portato diciamo a discolpa in questo metaforico processo che facciamo a von Braun e cioè che lui fu addirittura arrestato dall'SS a un certo punto perché sostanzialmente fu arrestato insieme ad altri scienziati dell'esercito tedesco perché le SS ritenevano che stessero rallentando il programma che non andassero sufficientemente spediti no c'era questa corsa avevano fretta perché loro in realtà cercavano di fare ricerca sull'esplorazione spaziale più che cercare un'arma nell'immediato questo in realtà fu una giustificazione in realtà c'è anche la versione che però questo probabilmente fu un arresto dovuto anche alla volontà dell'SS di mettere le mani sul progetto no che probabilmente queste accuse appunto non erano fondate però questa è stata usata dopo per dire per come dire sostenere la tesi dello spirito di ricerca e di esplorazione di von Braun però qui e vediamo insomma chiedo il tuo parere su questo ma anche sulla prova su questa immagine perché questo è invece l'elemento più negativo a carico della colpevolezza in questo processo metaforico di von Braun e cioè questi sono gli internati del campo di concentramento di Dora dove venivano costruite appunto le due e quindi la costruzione di questi razzi provocò la morte di tantissimi di queste persone che venivano sfruttate vivevano in una situazione veramente incredibile distenti insomma che abbiamo visto nei vari campi di concentramento qui appunto è un campo di lavoro dove venivano lavoravano per non essere colpiti da bombardamenti alleati appunto nei sotterrani quindi condizioni durissime molti morirono e qui l'accusa è non poteva non sapere von Braun di questo insomma beh guarda è difficile non dare credito a quelle le ultime parole che hai detto cioè al fatto che il capo progettista e tutto l'insieme del suo team che progettavano i razzi non fossero al corrente che le linee di produzione eh di di questi razzi fossero all'interno di gallerie scavate sotto le montagne del Vars e e per opera di queste persone che ricordiamo erano prigionieri di guerra in prevalenza polacchi cioè slovacchi eh dell'est e si stima che oltre ventimila persone ci lavoravano e quindi con migliaia di persone che ne soffrirono fino 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 alla morte quindi ehm è impensabile eh credere che un lui o il suo team non abbiano mai visitato quelle linee produttive se non altro per vedere se i manufatti che stavano venendo fuori erano rispondenti ai loro progetti che loro facevano a Pene Munde anche il fatto che poi appunto fossero tutte in gallerie scavate è un qualcosa che i progettisti dovevano sapere perché perché avevano subito dei bombardamenti dagli alleati a Pene Munde e in altre fabbriche del nord della Germania dove si comprovano costruivano componenti per motori quindi erano perfettamente consapevoli e ti do anche un altro elemento lo stesso von Brown e qui non sappiamo in che modo le SS le furono al corrente ma lo stesso von Brown prima poi di arrendersi è provvedete a spostare in certe caverne segrete intere V2 e interi volumi dei progetti quindi dentro di sé già aveva un dupli una duplice idea di eh mettersi da parte tutto quello che aveva realizzato di non lasciarlo sotto le bombe alleate oppure alla distruzione dell'SS e infatti infatti qui arriviamo poi ecco mostro subito qui al momento in cui si consegna gli americani lui ha un braccio rotto perché ha avuto un incidente automobilistico e mh vabbè questa è una storia veramente rocambolesca che è stato oggetto poi di libri di film l'operazione power clip no dove in sostanza che succede lui in Germania stanno avanzando i sovietici avanzano anche gli alleati ma più in ritardo perché ricordiamoci poi sul campo lo sforzo maggiore no lo fece l'Unione Sovietica contro quindi sono furono i primi a occupare soprattutto la parte orientale della Germania Penemunda era nord est diciamo della Germania ma lui appunto si sposta lungo i vari centri di ricerca e di produzione in Germania arriva fino alle Alpi Bavaresi dove qui riesce a entrare in contatto con gli americani perché lui si voleva consegnare agli americani perché aveva più paura dei sovietici che degli americani anzi lui lo scrive no apertamente dice gli americani erano gli unici che un po' anche nei suoi confronti meno vendicativi perché gli inglesi li aveva colpiti con le V2 sul proprio territorio e francesi insomma lasciamo perdere i sovietici avevano subito i danni maggiori dell'avanzata nazista ecco gli americani erano quelli che da un lato meno vendicativi e dall'altra gli potrebbero garantire i finanziamenti per continuare le ricerche no lui questo lo dice apertamente o comunque lo dirà dopo che era ormai negli Stati Uniti quindi anche qui non sappiamo quanto insomma spontaneo sì sì no hai perfettamente ragione in quegli in quei mesi concitati gli americani mandano degli ufficiali alla ricerca di Von Braun e del suo team lo stesso fa fanno i russi addirittura il progettista capo il signor K Sergei Chiorolev è in Germania per andare a ricercare i progetti di Von Braun gli inglesi lo cercavano per impiccarlo insieme a tutto il team e i francesi però come hai detto tu nelle sue memorie in seguito lui dice ma i francesi poi non pensavamo avessero i soldi per poter sostenere queste spese e quindi diciamo è una resa molto tranquilla pacifica che come ripeto consente poi grazie al fatto che loro avevano nascosto in punti precisi delle V2 intere consente agli americani di trasbordare questi razzi e questo materiale tecnico direttamente negli Stati Uniti quindi insomma lui fa un'operazione di riconversione ben studiata ben strutturata e tutela mettendo da parte non solo i progetti ma i missili veri e propri che poi sparerà lancerà dagli Stati Uniti eh sì eh sì tra l'altro è una storia incredibile anche qui eh come perché dove c'è arrivarono prima gli americani dove c'erano gli stabilimenti no? Trovarono le V2 trovarono poi i documenti però quei quel quei territori furono però poi assegnati all'Unione Sovietica quindi ci fu la corsa poi contro il tempo anche per spostare queste V2 che piccole non erano e i documenti tutti prima di cedere questi territori all'Unione Sovietica quindi fu veramente una corsa corsa rotambolesca. Corsa perché? Perché allora no questo è un po' la base del nostro discorso eh nessuna delle potenze si è fatta mai un problema di morale no? Nella corsa dello spazio eh allora qui l'interesse degli americani era che eh loro dovevano ancora vincere la guerra col Giappone eh stavano sviluppando l'arma nucleare però appunto una delle possibilità era il lancio dell'arma nucleare come poi avverrà negli anni cinquanta no? Con i missili intercontinentali eh con un missile quindi loro interesse immediato per cui loro eh accolsero favorevolmente von Braun anzi accettarono no? Von Braun chiese che furono spostati intere decine e decine di scienziati tutto il suo gruppo di ricerca perché appunto lui lavorava in team e accettarono questo perché pensavano di usarlo nella guerra contro il Giappone per cercare la resa del Giappone quindi per questo ci fu questa corsa no rocambolesca. Sì assolutamente eh non ovviamente gli americani non volevano che la tecnologia entrasse nelle mani dei sovietici e i sovietici volevano che loro mettersi le mani e soprattutto come dici tu eh i generali statunitensi vedevano nella possibilità di montare la bomba atomica sul 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 missile di von Braun come poi fecero in seguito un'opportunità per bombardare il Giappone. Eh come tu hai detto von Braun ottenne il trasferimento di circa 120 persone nel negli Stati Uniti quindi non proprio con tutte le famiglie quindi non proprio un drappello esiguo questo comportò per l'esercito americano di creare una piccola enclave eh dove queste persone che addirittura non parlavano nemmeno l'inglese potessero in qualche modo lavorare. Loro li sistemarono nel deserto del Nuovo Messico a White Sands perché è un poligono desertico un poligono delle US Army desertico e e e li misero lì. Poi come tu hai detto gli Stati Uniti in realtà lanciarono la bomba atomica con i bombardieri quindi le attività di von Braun andarono in secondo piano ma solo in un secondo piano relativo perché comunque per il proseguo della guerra fredda eh la missilistica rappresentava l'artiglieria del futuro no? Quindi eh sì 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 infatti lui poi racconta no come eh questo è un momento un po' down dopo che cioè va negli Stati Uniti pensando no di ricevere chissà cosa poi invece entra in una fase un po' di ombra mettiamola così perché gli americani hanno raggiunto lo scopo il giappone si è arreso e la V2 non gli è servita eh hanno un po' di proteste no? Ricordiamo tutti gli scienziati non solo anche bei che siano rifugiati negli Stati Uniti che protestano ci sono delle lettere di Einstein addirittura ma anche dell'associazione degli scienziati americani che dicono ma come questi insomma sono nazisti non devono avere non devono ricevere i sostegni i finanziamenti eh da parte del governo degli Stati Uniti quindi è un periodo un po' difficile per von Braun e anche i suoi progetti non gli vengono bocciati viene tenuto un po' un po' un po' all'oscuro di tutto e mh però poi succede un qualcosa di incredibile la sua slide indoors che gli cambia completamente la vita cioè i sovietici che pure erano riusciti a a occupare un po' di fabbriche no? Avevano pure loro ottenuto di dei pezzi di V2 eccetera quindi eh avevano poi sviluppato il loro sistema spaziale da questa base qui infatti i primi tentativi che fanno il Sakran in Kazakhstan poi sono state rivelate dopo le foto successivamente decenni e decenni dopo in realtà erano uguali alle V2 sostanzialmente però loro fanno fanno uno sviluppo ulteriore ovviamente c'è ehm anche qui la storia dell'esplosione spaziale sovietica no? È incredibile straordinaria ha dei personaggi veramente incredibili e comunque arriviamo quindi al lancio dello Sputnik sovietico no? Yuri Gagarin quindi l'Unione Sovietica si porta in vantaggio no? Nelle confronte degli Stati Uniti questo è il momento insomma forse più eroico della storia dello spazio no? Marcello? Sì allora effettivamente questo che tu hai hai tratteggiato è il periodo che va dal 1945 al 56-57 in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si fronteggiano nella guerra fredda e la missilistica è uno dei territori tecnologici di frontiera per cui entrambe le forze armate producono missili balistici a corto raggio a medio raggio e a lungo raggio in realtà l'Unione Sovietica produce da subito dei missili balistici balistici a lungo raggio a cui con un piccolo motore allo stadio superiore riesce poi ad aggiungere il satellite lo Sputnik ed andare nello spazio. Negli Stati Uniti invece il presidente Eisenhower che ricordiamo nel 58 poi fonda la NASA e gli Stati Uniti invece decidono di separare gli sviluppi tecnologici dei missili spaziali da quelli che portavano la bomba atomica e sviluppare degli intermedi e dei lungo raggio e questo comporta un po' un dispendio di risorse e quello svantaggio che consente ai russi di arrivare nello spazio con lo Sputnik. A quel punto come detto tu richiamano in servizio von Braun il quale era stato messo in secondo piano ma continuava a lavorare su un missile dell'esercito delle US Army il Jupiter che funzionava bene e lui aveva anche realizzato lo stadio superiore per arrivare nello spazio. C'è un aneddoto in cui lui cerca di convincere uno scienziato a convincere il capo progettista della Marina Americana, il capo del razzo Vanguard a usare il razzo Jupiter di von Braun persino scrivendoci il nome Vanguard al posto di Jupiter dicendo guarda usa il mio perché il mio funzionerà il tuo no cosa che poi purtroppo avviene perché subito dopo lo Sputnik gli americani sono presi dal panico lo Sputnik moment è il momento di panico danno alla Marina l'incarico di lanciare il Vanguard il razzo però esplode in diretta televisiva sulla rampa di lancio e a quel punto a von Braun si spalancano le porte della NASA. Eh sì è la sua grande sliding door no perché sostanzialmente da qui viene rilanciato insomma gli Stati Uniti hanno dovuto recuperare dalla brutta figura e gli danno piena piena forza no finanziamenti e il vincitore insomma interno interessante notare come lui si trova no nel periodo della seconda guerra mondiale al centro di una contesa tra l'esercito tedesco e le SS tedesche si ritrova nella stessa situazione negli Stati Uniti tra la Marina no che appunto il Vanguard che poi eh riceve l'appoggio della Casa Bianca ma poi fallisce invece l'esercito no il Jupiter eccetera quindi comunque anche bravo sempre a districarsi da queste situazioni da questi conflitti di potere interni e lui diventa e qui arriviamo appunto a un'altra foto lui però è veramente insomma uno bravo che pensa anche ad altri aspetti oltre a quello della scienza e qui fa lo vediamo con Walt Disney perché farà una serie di trasmissioni di puntate eh di divulgazione appunto dell'esplorazione spaziale proprio con Walt Disney quindi era una anche attento alla comunicazione. Beh qui effettivamente questo è un periodo un po' d'oro no perché stiamo parlando degli anni cinquanta inizio anni sessanta quindi anche gli anni in cui la letteratura la cinematografia di fantascienza soprattutto negli Stati Uniti prendono molto piede. Una persona come Walt Disney è indubbiamente affascinata dai progetti di Von Braun di basi spaziali perché ne vede anche un ritorno di pubblicità e di interesse per tutto quello che è l'entertainment che Walt Disney sta sviluppando e tutto questo fa anche molto gioco all'establishment militare e politico perché eh come hai ricordato tu nello spazio si va per per fronteggiare i nemici per essere per per affermare la propria supremazia e quindi riuscire a costruire anche un racconto di narrazione cinematografico, di entertainment, di ispirazione, di fascino per la per le persone è stato un connubio che eh gli Stati Uniti hanno saputo sfruttare bene per fare dell'epopea spaziale un grande una attività a grande consenso pubblico. Eh sì eh poi con impatto sociale fortissimo no l'epopea spaziale anche come dire la nascita della fantascienza no? Quindi è tutto diciamo un mondo legato all'esplorazione spaziale che tocca veramente tutti gli aspetti eh della società e molti emotivi però addirittura da sopra avanzarli no? Uno cioè quello che proprio noi vogliamo mettere in evidenza anche con questa puntata su Von Braun è che eh va benissimo l'esplorazione spaziale come scopo pacifico come sogno dell'umanità dell'esplorazione e così via però bisogna ricordare come abbiamo fatto col volume di Limans no? Che c'era appunto invece questi intenti molto poco morali invece legati agli interessi alla volontà di fare la guerra eccetera eh no c'è questo due due medaglie dello spazio e e la cosa interessante è che Von Braun le rappresenta perfettamente proprio quello che dicevamo no? Anche con l'ambiguità del personaggio e anche se insomma chi vuole vedere in Von Braun la figura appunto dello scienziato che deve ehm però fare i conti con il mondo militare prima tedesco e poi americano oppure invece quello invece di un appunto una persona che invece era pienamente allineata alla ricerca anche a scopo militare sia prima della Germania e poi degli Stati Uniti. Ma sì è assolutamente così Von Braun rappresenta proprio eh perfettamente questa questa dicotomia no? Alcune fonti dicono che lui non parlasse mai con i tedeschi eh dei suoi progetti di esplorazione di Marte perché pensava che lo avessero preso lo prendessero per matto mentre invece poi negli Stati Uniti eh insieme grazie anche alla collaborazione con Walt Disney lui aiuta molte supporta molte pubblicazioni della Disney sull'esplorazione spaziale e pubblica il suo libro Mars e Project Tale cioè Marte una un raccolto di un progetto in cui lui da lì il libero sfogo a quello che è la sua concreta progettorità ora sapere quanto lui veramente volesse farlo io penso di sì insomma è un opinione personale e quanto ovviamente per arrivare a fare questo eh si agganciasse tatticamente a tutti coloro che gli potevano fornire i mezzi importanti per farlo e questo è è l'emblema della persona è quello che dicevi tu e poi la Marte è addirittura no sempre stato un obiettivo fin da giovane anche di molti di questi pionieri dello spazio no quasi più della luna Marte ha sempre toccato di più no l'immaginazione l'immaginario dei primi pionieri ma anche della società sì perché diciamo nell'immagine un po' questo rileva dalle prime immagini riprese dall'astronomo Schiaffarelli italiano no che riportò eh di aver visto su Marte dei canali e questo ha introiettato per secolo l'idea che questi canali di Marte potessero essere abitabili il fatto che avesse un'atmosfera lasciasse presagire che poteva essere un luogo dove una vita biologica aveva aveva una sua collocazione e quindi ci avrebbe portato a incontrare finalmente qualcuno che forse ci poteva dire se eravamo soli o meno i marziani appunto no appunto da Marte esatto esatto mentre invece l'arida luna era un po' più però insomma adesso entriamo nel capitolo luna che è l'obiettivo principale eh degli Stati Uniti perché eh primato l'hanno raggiunto l'Unione Sovietica con il primo satellite del primo uomo nello spazio l'altro grande da guardo era la luna ed è adesso questa foto poi ci torneremo subito però ecco eh grande obiettivo politico americano che Kennedy poi riesce ad ammantare anche qui con la sua sua capacità oratoria con i suoi famosi discorsi no è proprio la perfezione anche per Kennedy dice l'obiettivo strategico militare che però è anche un obiettivo che tocca l'immaginario delle persone quindi è argomento politico no di di successo e la conquista della luna è veramente no l'apice eh per per von Braun e qui la foto appunto accanto in auto per il presidente americano è il massimo no è il suo apice grazie a lui grazie ai vettori no perché ricordiamo il vettore poi la cosa fondamentale quella la vecchia V2 no resa praticamente adesso eh dico cose parlo ovviamente semplificando però col vettore molto più grande è lo stesso di fatto che porta o grossi satelliti o la navicella spaziale che poi arriva sulla luna no quindi in realtà lui è il padre eh di questo e lui dobbiamo l'arrivo sulla luna beh assolutamente eh i momenti eh storici sono sono due eh nell'ottobre del 57 i russi lanciano lo Sputnik e quindi a von Braun viene affidato il compito di costruire i missili spaziali americani e lui svolge greggiamente il compito con il eh con lo Jupiter ma non si ferma lì perché poi i russi nel 61 lanciano Yuri Gagarin il primo cosmonauta e quindi gli americani devono inseguire anche questo eh questo successo tecnologico ed è sempre von Braun che costruisce sta già costruendo e costruisce i razzi i Mercury Redstone e poi gli Atlas Gemini cioè i razzi che portano gli astronauti italiani ed è quando tu hai ricordato il discorso di Kennedy Kennedy dice di voler mandare sulla luna un uomo entro la fine del decennio pochissimo un paio di settimane dopo il volo di Gagarin quando gli americani non hanno nemmeno idea di come andarci e quindi si affidano a a questo uomo questo tedesco naturalizzato il quale è l'unico che riesce che ha in mente di progettare un razzo gigantesco alto più di cento metri e appunto questo è il time del suo successo del del Vanguard ma a lui ha in mente di progettare questo razzo e quindi la foto che vediamo è la foto di un uomo in un ufficio bellissimo arrivato che ha che ha fondi non dico illimitati ma amplissimi per realizzare questo obiettivo che lui probabilmente pensa essere propedeutico ad andare su Marte e quindi ci si cala in in pieno e allora qui nella foto vedete dietro anche le dimensioni no sono abbastanza proporzionate dei vari razzi no fino a quello che poi porterà solo una vedete appunto cambiamento di 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 dimensioni e e vede la copertina del time è il massimo è il top per lui come è fatto bene a ricordarlo nel frattempo è diventato cittadino americano quindi come dire viene calata un'ombra un telo oscuro su tutto il suo passato perché adesso insomma la cosa importante è la convenzione con l'Unione Sovietica e la conquista della luna però nella foto che abbiamo visto prima è interessante notare eccola che eh non era solo von brown lui è bravo anche nella comunicazione quindi diventa il personaggio principale però in realtà ha sempre fatto un grande lavoro di squadra infatti si portò dalla Germania con sé negli Stati Uniti i suoi collaboratori e per qualche detrattore che poi successivamente ci sarà anche un filone molto molto critico secondo qualche detrattore lui in realtà era un bravo manager ma gli scienziati erano altri insomma anche qui entriamo no nelle due due visioni però raccontaci che cos'è questa foto e chi è la persona raffigurata allora eh sono eh la persona raffigurata è effettivamente un americano un ingegnere della nasa si chiama john hobbolt ed è mh lui e von brown sono le due persone che hanno consentito agli americani di andare sulla luna perché von brown progettava un razzo eh enorme ma non sapevano bene che cosa mettere su questo razzo come atterrare sulla luna e come tornare sulla terra e la soluzione l'ha data questo ingegnere eh che ha dovuto eh veramente fare un po' il matto per farsi ascoltare dalla nasa finché poi non è stato spedito ad hansfield nell'ufficio di von brown a cui ha illustrato il suo metodo per mandare il modulo la capsula pollo il modulo di discesa in una serie di pezzi che si montavano e smontavano e von brown ha avvallato questa scelta ingegneristica l'ha apprezzandola tantissimo e quindi a quel punto la nasa ha trovato un configurazione per andare nello spazio con razzo di von brown hubolt praticamente ha ideato un sistema in quattro pezzi e quindi questi quattro pezzi servono per andare sulla luna per ripartire sulla luna ma ne ritorna uno solo perché il problema è avere energia sufficiente per andare e tornare e quindi lasciando i pezzi un po' un po' in orbita lunare un po' sulla superficie e un po' in orbita terrestre con questa configurazione hubolt eh grazie al placet di von brown ha realmente mandato gli stati uniti sulla luna e infatti infatti e allora andiamo avanti con le foto perché diciamo con la luna è il suo momento più alto però diventa immediatamente no anche il momento più basso probabilmente o comunque un altro down perché lui appunto è indigiato qui vedete appunto nel suo ufficio con tutti i modelli dieti di razza eccetera l'idea no di lui con le scarpe sulla scrivania ci dà l'idea di una persona pienamente a suo agio ormai arrivata no eccetera però con la conquista arriva anche insomma i saliti hanno raggiunto l'obiettivo strategico cioè no risopassare l'unione sovietica è costato questo progetto anche un sacco di soldi ai contribuenti americani e quindi dopo la conquista della luna lo spazio non è più così così importante per la casa bianca e quindi i programmi che ha sempre avuto no eh von brown di appunto dei progetti successivi di andare su marte e così via vengono un'altra volta messi da parte beh sì e allora questa è la è la parte conclusiva un po' amara della parabola di di von brown eh il presidente Nixon mentre parla con Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla luna eh sta firmando praticamente la chiusura del programma Apollo e quindi il programma Apollo si conclude dopo poche missioni dall'Apollo 11 all'Apollo 17 Nixon chiama un comitato di esperti per il futuro dell'esplorazione spaziale e quindi puntano alla lavetta space shuttle la cui progettazione però eh è interamente affidata all'industria americana alla Rockwell Dynamics alla Martin Marietta e quindi von brown viene eh così di colpo messo in un cono d'ombra e cominciano anche a ritornare sulla stampa degli articoli che gli eh rinfacciano il suo passato nella Germania nazista e quindi c'è un uno strano momento in cui la persona da dalla foto che è illustrato no di una persona che ha un potere eh così incredibile entra in un cono d'ombra e e lascia la nasa quasi quasi di soppiatto ecco eh sì eh sì e poi morirà a caso di un di un tumore e quindi finisce no l'epopea di von brown che comunque è il protagonista assoluto fino agli anni settanta dell'esplorazione spaziale perché eh se Yuri Gagarin è riuscito ad arrivare nello spazio è anche merito delle V2 tedesche e ancora di più se gli americani sono arrivati sulla luna lo devono a von brown e a suoi collaboratori alle sue capacità che poi ecco eh ognuno può pensare come gli pare più manageriali più da scienziato più da ricercatore e così via comunque sicuramente lui è il protagonista e eh un po' la mare realtà è che comunque tutto lo spazio fino all'esplorazione dello spazio fino agli anni settanta poi dopo cambieranno un po' ovviamente le cose ma fino ad allora tutto si deve a uno scienziato nazista che ha fatto parte dell'SS esatto esatto sì la realtà è questa la realtà storica che dobbiamo leggere è assolutamente questa eh sì e quindi insomma non si può fare troppo la morale quando si parla di ricerca anche esplorazione spaziale e tutti gli interessi interessi che ovviamente ci sono dietro che però magari appunto sono anche interessi che servono poi a realizzare dei sogni e quello del dello spazio dell'esplorazione spaziale è uno dei grandi sogni dell'umanità che appunto in questo in questo secolo almeno come esercita a realizzare una prima fase poi vedremo che cosa ci porterà no Marcello penso che la Marte è bene o male non so se noi lo vedremo ma forse anche sì forse no ma insomma il prossimo obiettivo è sicuramente Marte beh diciamo come pensava Von Braun a brevissimo termine l'obiettivo è tornato la luna ma per dei motivi appunto strategici di come abbiamo avuto modo di scrivere nel volume di Limes in quanto c'è per gli Stati Uniti un problema di space superiority rispetto alle stazioni cinesi perché ormai i cinesi stanno nell'orbita terrestre bassa in maniera permanente quindi sicuramente ora il campo si sta spostando nel sistema terra luna nel cis lunare con un occhio a Marte perché sicuramente Marte rappresenta comunque per le persone l'elemento di ispirazione e quindi è un obiettivo inspiration un obiettivo che che sicuramente è nelle corde per muovere le emozioni e le ispirazioni delle persone insomma io rinvio al volume di Limes le trasmissioni che abbiamo fatto sul volume ma anche quella più recente che abbiamo fatto su Elon Musk e suo ruolo importante no nella guerra in Ucraina quindi ormai lo spazio è diventato anche spazio per privati per grandi imprenditori per la competizione con la Cina a tutto ciò vi rimando appunto al volume di Limes alle altre trasmissioni e poi magari chissà anche altri futuri volumi e quindi Marcello io ti ringrazio per lo spazio e il tempo che ci hai dedicato e alla prossima grazie a te e alla prossima e a tutti quelli che ci ascoltano